Salta per lite la gita alla fattoria didattica. Paura questa mattina a Pagani per una scazzottata che ha visto protagonista il genitore di un alunno di una prima elementare della scuola Sant'Alfonso. Il papà si è scontrato con l'autista dell'autobus di proprietà di un'agenzia di Angri che avrebbe dovuto portare 45 bambini in una struttura di Monte Corvino Pugliano. All'origine del contrasto la richiesta da parte del genitore dei documenti del pullman e del conducente. Probabilmente l'autista avrà risposto per le rime rifiutandosi di consegnare il plico al genitore ed è scattata la scazzottata. Sono volati schiaffi e pugni, si è scatenato il putiferio con bambini terrorizzati e mamme in preda al panico. Sono stati chiamati i carabinieri ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha condotto l'autista al pronto soccorso per evidenti contusioni al volto. Sgomento il dirigente dell'istituto scolastico Maurizio Paolillo. Sono sconcertato, ha detto il preside della Sant'Alfonso, per il fatto che una discussione civile in merito all'accertamento degli atti si sia traumutata in un'aggressione con un povero cristiano intento a fare il suo lavoro che ha dovuto mettere a repentaglio la sua incolumità. Non è il primo caso, ha aggiunto Paolillo, in cui si superano i limiti. Minacciare o passare alle mani non è cosa rara, una consuetudine di cui mi rammarico molto. I documenti dell'autobus e del conducente erano tutti in regola. La scuola li aveva acquisiti da tempo. L'autista, al momento dell'aggressione, non li aveva con sé perché erano in segreteria per gli ultimi adempimenti. Il dirigente Paolillo ha precisato. Noi acquisiamo per tempo la documentazione di autobus e autista. I documenti di entrambi erano regolari. C'era l'autorizzazione al trasporto di persone, la revisione fatta a gennaio 2017 e la patente dell'autista pienamente valida con scadenza nel 2018. Grazie.